Bellati ragazzi, siamo qui in un nuovo video, in questo video giocheremo a Mini Wars con una mia amica Scrivete nei commenti se avrete qualche cosa da dare per trovare diamanti Ok, va là, può parere la mia amica e basta Dove sentiamo solo i due, gli altri non si possono sentire Allora, aspetta che sto entrando E prende poco Sta prendendo poco 5, 6, 5, 6 5, 6, 5, 6 0, 0 Ok, non è entrata ancora, vero? Bea, ma sei entrata? Sì, ma ti è entrata? Ok, io non capisco una cosa, ok Sto arrivando Sì, ma ti è entrata? Sì, ma ti è entrata significa Come come, io non capisco Sì,asia? Sì, ma ti è entrata? Sì, o' terça ti charao Sì, tu, tu c'è, voi è entrata? E' Chair, vuoi? Ho, ho, és il nostro dìto'. Sì, la cosa? Letta parla, è yaga? Sì, li ma'è? Sì, la cosa? Grazie. 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 Grazie da Matteo. Sto arrivando. Sto entrando. Mi devi dare un piccone e un bello stack da mangiare. Aspetta, dove sei? Getur líkt þeir. Hvað er það? Mér var satt í. Að ekki. Gita út í enn og lei. Sto arrivando Sto scendendo Gampson e Di Dove dormo? Me li hai fatti i letti? Sì, quattro sono qui. Dormi vicino a me tra l'altro. Senti, dormi vicino a me prima che ho leo. Sì, sto andando. Eh, perché mi va scassi. Mi sta uccidendo il mio cuore. Ma no, non è giusto. Sono andato in un muro. Sono andato in un muro. Non è giusto. Apritemi la porta. Sto uccidendo il tuo cane. Il tuo cane mi sta uccidendo. Sto ammazzando io. L'ho ucciso il cane. Sono io. Dove te l'ho ucciso? Della che ha rompito le schiatole. Mi stavo ammazzando. È tutto bagato. Non riesco a giocare. Provo. Faccio live e rivengo. Perché mi sta andando scatti. Ok. Mi stavo ammazzando. È tutto. Io mi stavo canONG. È tutto. Beh, ma non è giusto. È tutto. È tutto. Sì. È tutto. Tampaglia. Sì, io ci sono. Se magari non mi va a scatti. Eh. Sì, io non mi va a scatti. Grazie a tutti